Gli storici del pensiero politico dividono il liberalismo come ideologia, come filosofia politica in tre grandi fasi storiche. Innanzitutto il liberalismo classico, sulla scia dei padri fondatori come John Locke, come Adam Smith e che si consolida tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, caratterizzato da un forte individualismo filosofico, dal liberalismo politico e dal liberismo laissez-faire in ambito economico. Successivamente il liberalismo sociale, che è quello di cui parleremo in questo video, è caratterizzato da un forte intervento dello Stato nell'economia e nella società con il fine di meglio garantire la libertà degli individui liberandoli dal bisogno materiale. ed è tipico della prima metà del Novecento, ma soprattutto dopo la crisi del 29 fino alla crisi degli anni Settanta, grosso modo. Infine il neoliberalismo o neoliberismo, diffuso a partire dagli anni Ottanta, ma le prime teorizzazioni risalgono agli anni Trenta, si caratterizza invece per un ritorno al liberismo economico, alla preminenza del mercato rispetto allo Stato e a un individualismo molto marcato, tant'è vero che comprende anche correnti libertarie. A livello filosofico, una figura chiave nel passaggio tra il liberalismo classico e il liberalismo sociale è John Stuart Mill, il quale è influenzato prima di tutto dai grandi economisti liberali classici come Thomas Malthus, sostenitore della scarsità delle risorse rispetto all'aumento di occupazione, Adam Smith, teorico della mano invisibile, David Ricardo, teorico di vantaggi comparati, ma anche un socialista utopico cooperativo come Owen, oppure Jeremy Bentham, teorico dell'utilitarismo, per cui bisognava ricercare la massima felicità possibile per il massimo numero di persone possibili, ancora suo padre James Mill, che aveva lavorato nella propria psicologia dell'altruismo. E John Stuart Mill, nel suo famoso saggio sulla libertà del 1859, cerca di conciliare la giustizia sociale e la libertà. Quindi lui rivendica un ruolo attivo per le classi più umili e a favore dell'emancipazione femminile e della parità tra uomo e donna, ritiene che lo Stato debba essenzialmente non intervenire nella sfera privata, che anzi va salvaguardata, bensì tutelare e garantire la libertà individuale, contro anche la tirannia dell'opinione e contro la dittatura della maggioranza, in modo da salvare tutti i costi e l'indipendenza del singolo. Dalla fine dell'Ottocento queste teorie si diffondono in diversi paesi, in genere quelle dotate di società industriali avanzate, a partire dall'Inghilterra, dove i New Liberals, come John A. Hobson, grande critico dell'imperialismo, Leonard Hophaus, Thomas Hill Green, sostengono che lo Stato serve a stabilire delle circostanze socio-economiche favorevoli alla libertà, ed esercitano una certa influenza sui governi liberali degli anni 10-20, quelli che danno inizio al welfare state britannico. Anche in Germania si parla di una terza via tra il socialismo e il liberalismo, infatti nella Repubblica di Weimar ci sarà il dolce democratice partai, con posizioni di destra in economia, ma di sinistra a livello sociale. In Francia queste correnti sono in contatto con la sociologia, ad esempio quella di Emil Durkheim, per cui ritengono che gli individui abbiano un debito verso società e che lo Stato debba assumere un ruolo di coordinamento. E nei Stati Uniti, per l'influenza del socialismo e del cristianesimo evangelico, abbiamo Lester Frank Ward, che elabora la sua sociologia in opposizione a quella di Spencer, oppure il pedagogo John Dewey, il quale sostiene la necessità di usare metodi socialisti per raggiungere fini liberali. In Italia il primo importante autore di questo orientamento è Gaetano Salvemini, il primo del Novecento, che sostiene la necessità di una riforma del capitalismo attraverso gli operai socialisti. E sono riforme che vengono portate avanti con l'appoggio del PSI, sia in epoca giolittiana, ma anche dopo la Grande Guerra. E infatti si oppone al fascismo anche tutto un filone di questo tipo. Le figure di Piero Grovetti, con la sua rivista Torinese e la corruzione liberale, che sosteneva un vero e proprio liberalismo sociale, basato sull'azione della classe operaia, e Carlo Rosselli, fautore di un socialismo non marxista, ma su posizioni liberali. Tra l'altro entrambi pagheranno con la vita all'opposizione al fascismo. Piero Grovetti morirà in esilio in Francia in seguito alle bastonate ricevute, mentre Carlo Rosselli, come il fratello, saranno assassinati sempre in Francia da sicari inviati dal regime. Ad ogni modo, il loro antifascismo dà vita alle formazioni di giustizia e libertà durante la guerra civile. E proprio in quegli anni, una figura fondamentale del liberalismo italiano, come Veneto Croce, nel suo saggio del 27, Liberalismo e liberismo, distingueva tra il liberalismo politico e sociale che lui condivideva, e invece il liberismo, parola da lui coniata, economico, che rifiutava. Il liberalismo sociale, però, si afferma e prospera, soprattutto dopo quello che è l'evento spartiacque nella storia del primo novecento, cioè la grande crisi economica del 1929, che tra l'altro è una crisi di tutto il modello liberale ottocentesco, e in particolare una figura fondamentale sul piano teorico è l'economista britannico John Maynard Keynes, che si era occupato, per esempio, nelle conseguenze economiche della pace nel 19 del Trattato di Versailles, in particolare sottolineava come le ingenti riparazioni imposte alla Germania avrebbero influenzato negativamente l'economia globale, si era schierato con il Trattato sulla riforma monetaria del 23 contro le politiche deflattive che mantenevano alto il valore della moneta, e soprattutto è nel 36 che pubblica la sua opera più importante, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, lui sosteneva sostanzialmente che il reddito nazionale fosse dovuto alla somma dei consumi, degli investimenti, quindi che bisognasse investire sulla domanda aggregata e dunque anche aumentare la spesa pubblica per creare a tutti i costi occupazione che poi avrebbe avuto delle ricadute positive sull'intera economia, opponendosi anche al libero scambio e incentivando piuttosto la produzione nazionale. Le politiche di Keynes ebbero subito un'influenza importante sulla ripresa economica inglese già dagli anni 30. Allo stesso modo politiche analoghe vengono attuate da Franklin Delano Roosevelt negli Stati Uniti, il New Deal, il quale di fatto consente agli Stati Uniti di uscire dalla Grande Depressione. E ancora, il modello nordico che si diffonde nei paesi scandinavi in quel momento, che si basa sull'accordo tra operai e imprenditori, coinvolgendo partiti socialdemocratici, agrari, nell'ottica appunto di una cooperazione tra capitale di lavoro e della nascita dello Stato sociale. Questo perché tra le due guerre la socialdemocrazia era una realtà che poi con la guerra naturalmente aumenta la spesa pubblica in maniera esponenziale, quindi si affermano effettivamente le politiche dirigiste, come in Francia nel 44, la Repubblica Italiana, anche perché la grande alleanza delle potenze democratiche contro il fascismo fa sì che la socialdemocrazia di origine marxista-riformista finisca per saldarsi con il liberalismo sociale. In sintesi possiamo quindi vedere che il liberalismo sociale ha avuto uno sviluppo da prima intellettuale, a partire da Stuart Mill, con una riflessione sulle contraddizioni del liberalismo. Poi, dall'inizio del XX secolo c'è stato un vero e proprio confronto con il socialismo politico, dovuto anche al fatto che questo si fosse ormai diviso tra massimalisti, rivoluzionari, tra riformisti, con i quali poteva essere trovato un accordo politico e quindi anche teorico. E successivamente queste teorie filosofiche sono state applicate, a partire dagli anni 20 e soprattutto 30, determinando un cambio del paradigma storico. Naturalmente, mentre il socialismo democratico ha comunque in mente sempre l'idea di classe lavoratrice, anche se si propone di raggiungere i suoi scopi con mezzi democratici e con le riforme, a differenza invece del marxismo-leninismo, il liberalismo sociale pone comunque al centro della sua visione politica l'individuo e la sua libertà. Semplicemente ritiene che lo Stato, con il suo intervento nella società, nell'economia, sia necessario per garantire che questa libertà sia davvero rispettata. E sarà proprio questo paradigma a prevalere, diciamo, tra la crisi del 29 e poi la crisi del 73. Passando attraverso la Seconda Guerra Mondiale, che ne determina la vittoria come modello che si afferma in Occidente, il modello delle potenze vincitrici, per quello che viene appunto chiamato il periodo dei 30 anni gloriosi in cui l'economia cresce e una parte consistente della popolazione dei paesi occidentali aumenta il proprio tenore di vita e entrano a far parte a tutti gli effetti della classe media.